E vi ricordo sempre che il 5 marzo del 2013 Baila Scorsetti per questa paletta di Baila di Valesa si risponde la nuova per un strogo quindi aspettiamo il 5 marzo Proveggio 7 Baila Quasi Visitate Baila Scorsetti Baila Scorsetti Fosse 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 Il Grazie a tutti. 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 In pista il gruppo con il numero 68, scusate il gruppo numero 103, 103, a sigile 37. Grazie a tutti.